Manuel Pantalone è il nuovo coordinatore nazionale dei giovani di valore impresa, cotitolare della Archis SRL, azienda leader in Italia nel settore dei componenti medicali, molto attiva, soprattutto in questa fase molto difficile per il paese con forniture a esercito e ASL, Pantalone commenta così la sua nomina e mission. È un compito nobilitante ma al contempo di grande responsabilità che porterò avanti profondendo il massimo impegno in un momento assai delicato per l'economia del nostro paese e per la piccola e media impresa, momento chiaramente causato da questa tremenda emergenza che stiamo vivendo. È dei giovani imprenditori che a mio avviso si dovrà ripartire attraverso la formulazione di proposte concrete da sottoporre al legislatore, proposte che tengano in grande considerazione le esigenze del 98% del prodotto interno lordo dell'Italia, che appunto questo 98% è costituito dalla piccola e media impresa. Il gruppo nazionale dei giovani imprenditori del network Valor Impresa è la rappresentanza dei volti giovani del network. La base associativa del gruppo è infatti costituita dagli imprenditori under 45. Il network Valor Impresa incarna un nuovo modello di rappresentanza degli interessi rivolto alle piccole e medie imprese italiane. Un'innovazione di pensiero che rafforza il rapporto tra sistema di impresa e sistema professionale, quale alleanza strategica per determinare un sempre maggior consolidamento dell'economia reale italiana. La nostra mission è quella di creare beneficio per l'impresa aderente al network sostenendo le economie di scala, individuando e proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale del nostro paese. Siamo presenti in tutte le regioni italiane e riuniamo le varie categorie appartenenti ai diversi settori dell'industria e del mondo delle professioni.